Terza corso dall'arcoveggio di Bologna, una prova per tre anni, questa volta non vincitori di 4.000 euro nella carriera, con in Salchi i gentlemen sono in 12 a prendervi parte. Corsa che vede in Crown, OP un favorito abbastanza netto, soprattutto in chiusura. Di betting scende la quota dell'allievo di Rebecca Adami, andiamo a leggere il campo dei partenti, 1 Crown OP, 2 Colorado Spring, 3 Custoza, 4 Conflitto OP, 5 Candy Spritz, 6 Chloe Jet, in seconda fila 7 Caio Largo Pax, 8 Chocolat, 9 Chames dei Greppi, 10 Corsaro di Mare, 11 Cooper GV, 12 Clark Cable Olm, con l'autostart che entra in dirittura e va per dare il via alla contesa. E si parte con Veloce Custoza, che prende il comando con subito a largo Candy Spritz, la quale insiste e passa all'imbocco della prima curva. In vantaggio Candy Spritz nei confronti di Custoza, mentre galoppa Crown OP. Numero 1 Crown OP, squalificato. Già dopo 100 metri, primo ottavo di miglio in 14 e mezzo, con Candy Spritz in vantaggio nei confronti di Custoza, poi conflitto OP, quindi ancora il 6 di Chloe Jet in quarta posizione, a precedere Colorado Spring, via via gli altri, con all'esterno Corsaro di Mare, 29,6 per 400, svelti da parte di Candy Spritz, che con Notello Zorzetto guida a buon ritmo, si trascina sempre Custoza, poi conflitto OP che cerca di riaccostare i primi due, che sono in larga evidenza. Le prime due, due femmine che transitano al mezzo miglio in netto vantaggio, mentre galoppa Colorado Spring, numero 2 Colorado Spring, squalificato, numero 7 Caio Largo Pax, squalificato. Intanto allora sulla curva di destra Candy Spritz, sempre in vantaggio nei confronti di Custoza, conflitto OP che dopo aver raggiunto le prime si mette in seconda ruota e inizia a recuperare, numero 12 Carclebol Olm, squalificato, numero 10 Corsaro di Mare, squalificato, mentre continuano a fioccare le squalifiche, 15,7 sulla dritta opposta alle tribune, deve remare ora Otello Zorzetto in Salchia Candy Spritz, che stanca il comando, attacca a largo conflitto OP, viene in mezzo alla pista Chloe Jet, quindi ancora Chames dei Greppi e poi in mezzo alla pista Clark Cable Olm, anzi Cooper GV, intanto Chloe Jet attacca decisamente conflitto OP e sul traguardo i due sono perfettamente apparegliati con l'arrivo in 32-1 e la fotografia per l'ordine d'arrivo con conflitto OP e Chloe Jet arrivati veramente naso a naso, andiamo a rivedere nelle immagini se il replay ci aiuta, conflitto OP si è difeso lungo i birilli, attacca all'esterno Chloe Jet che lo copre completamente e nei pressi del pallo lo costringe alla foto micidiale, continuiamo con le immagini nel replay, è bruttissima, bruttissima, bisogna andare dal giudice d'arrivo, solo lui potrà dirimere questa fotografia davvero micidiale con Chloe Jet che ha coperto conflitto OP, due sono veramente al limite della parità, con veramente una foto indecifrabile, il 9 al terzo posto di Ciames dei Greppi, lui si è abbastanza netto, foto per il primo, 9 al terzo, questo l'ordine d'arrivo della terza da Bologna. Grazie a tutti.